Appuntamento alla non perdere che sabato alle 21.15 a Quagata torna la scorrida, che cosa dobbiamo attenderci da queste edizioni? Ma quest'anno veramente è una puntata da non perdere perché saliranno sul palco ben 13 concorrenti dall'Umbria, dalla Toscana, dalle Marche accompagnati e presentata da Natali Caldonazzo, dal maestro Pierluigi Testi e dal mitico ormai inconfondibile Valletto di Rai 1 che per due puntate ha affiancato Carlo Conti, Lucio, il mitico Valletto di Venere Ormai un gran personaggio Sì, ormai diciamo che andandoci l'anno scorso ho avuto tanta popolarità e quindi quest'anno Francesco mi ha ridato la possibilità di essere con lui sul parco della scorrida Che dire, sono contento e spero di far bene come sempre Ma una freddura al volo per Arezzo TV? Nuova bomba del carcio brasiliano, Ordigno Ce l'ha sempre pronta Ce l'ha sempre pronta, le battute e le freddure Ma una patatina in chiesa la vogliamo raccontare? Allora, raccontati Allora, vi dico questa che mi ha reso noto da Carlo Conti Cosa ci fa una patatina in chiesa? Prega San Carlo Questo è Lucio Fabio Certo, no no, ma comprendiamo Allora, vi aspettiamo tutti sabato alle ore 21.15 allo Stadio Comunale di Quarata per il grande appuntamento con la scorrida Grazie a tutti